Un momento molto importante perché da 14 anni la Memo migliora la vita della nostra città, abbiamo visto quanto siano cresciute le attività in tutti questi anni, coinvolgendo sempre più persone, dai bambini piccoli appena nati fino a tante persone anziane che frequentano la nostra mediatore a Montanari. Quindi un grande ringraziamento a Corrado Montanari per quello che ha realizzato 14 anni fa e complimenti a chi la gestisce da 14 anni con grande passione. È stato un compleanno molto ricco, è stata una giornata molto intensa, piena di laboratori, anche di partecipazione di bambini, ma anche di persone adulte che si sono prodigate a fare delle attività molto particolari. È venuto il gruppo dell'Uncinetto che ha lasciato un ricordo importantissimo per questo compleanno, una torta fatta interamente a mano all'uncinetto, un capolavoro. I bambini sono stati molto allegri, molto vivaci, hanno costruito i loro libri che si sono portati a casa. Questo è l'esempio del fatto che questa biblioteca non è soltanto, dicevamo prima, una collezione di libri. Questa biblioteca è un luogo di aggregazione, è un luogo aperto a tutte le età e qui possono, bambini, adulti, giovani, possono arricchire le loro conoscenze, ma soprattutto arricchire la loro capacità di stare insieme, la loro voglia di condividere idee, opinioni, progetti. Quindi una vera fucina, un vero centro culturale della nostra città. Grazie.